I militari della stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano a Picentino e della locale stazione Carabinieri hanno scoperto una discarica abusiva a Ponte Cagnano-Faiano. Il controllo è scattato a seguito di attività di monitoraggio aereo effettuato dal nucleo elicotteristi. In prossimità del fiume Picentino, lungo via Roma, su un'area circoscritta e chiusa da un cancello, i militari hanno trovato depositati sul suolo rifiuti di variegata tipologia. I rifiuti di invenuti, stimati in circa 450 metri cubi, erano disposti in cumuli anche mescolati fra loro e in parte ricoperti da vegetazione. I militari hanno avviato le indagini del caso, accertato la proprietà dell'area che risulta di una società ed individuato i responsabili della gestione illecita di rifiuti.